Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd! Su Amazon Prime Video sono disponibili i primi tre episodi di The Boys, due, forse la serie che aspettavo di più in tutto questo 2020, assieme alla terza stagione di Dark. Ragazzi, che bomba! Tre episodi, la prima botta, e poi un episodio a settimana ogni venerdì, per un totale di otto episodi. Tanti quanti componevano la prima stagione dello show. E sappiate che anche quest'anno i nostri cari ragazzi, i nostri amatissimi o meno super tizi, ne combineranno delle belle e delle brutte, e delle bruttissime balene. Attente! E quindi, che ne direste di parlare con spoiler dei primi tre episodi della seconda stagione di The Boys, riflettendo su quello che abbiamo appena visto e su quello che vedremo nei futuri episodi? Figata, vero? Ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare, ovvero iscrivervi al canale YouTube di Cosmopolinerd cliccando sul tastino Iscriviti e attivando la campanella delle notifiche anche su cellulare, che è sempre una cosa importantissima. E se volete aiutarmi a diffondere il verbo di Cosmopolinerd Everywhere, allora followatemi su Instagram, mettete mi piace alla mia pagina Facebook e condividete questo video in ogni dove. Bene, ciancio alle bande e... salviamo l'America! Spero che The Boys vi piaccia almeno la metà di quanto piace alla sottoscritta e quindi vi avviso, da qui ogni sabato troverete la recensione con spoiler di ogni nuovo episodio che uscirà a cadenza settimanale fino al gran finale, ovvero la live di giovedì 8 ottobre alle 21. Avete presente come ho fatto con Dark? Ho intenzione di fare la stessa identica roba con The Boys perché merita? Merita di brutto. Merita di brutto perché resta una serie bellissima, ma non solo nei contenuti, nella messa in scena, nella caratterizzazione dei personaggi, nella figaggine in generale, nooo, ciò che aggiunge di fighissimo la seconda stagione allo show, The Boys è la strategia. E che strategia, ragazzi! Come sicuramente saprete, oggigiorno esistono due generali, diciamo così, modalità di fruizione delle serie TV. Abbiamo il binge watching, ovvero quando ti spari più episodi, puoi finché non ti escono gli occhi fuori dalle orbite, tipica di Netflix, oppure la release a cadenza settimanale, un episodio nuovo ogni settimana. Per l'appunto vediamo le serie HBO che vengono pubblicate su Sky seguendo la stessa tipologia di release e poi abbiamo la seconda stagione di The Boys, che in un giorno ci offre la possibilità di binge watchare i primi tre episodi e poi i successivi cinque li vedremo uno a settimana. Ma che cosa c'è di così geniale, almeno secondo me, in questa strategia? Questi primi tre episodi sembrano costituire una sorta di mini arco narrativo a sé stante, una sorta di preludio a quando poi si entrerà effettivamente nel vivo della seconda stagione, cosa che succede nella seconda parte del terzo episodio. Tuttavia, questo mini arco narrativo composto dai primi tre episodi della seconda stagione di The Boys potrebbe effettivamente un po' stranire i fan della prima stagione, perché la prima stagione dello show ci ha sempre offerto contenuti strepitosi, con un ritmo strepitoso e incredibilmente serrato, cosa che invece nei primi episodi della seconda stagione non vediamo ripetersi. Ma questo non è assolutamente un difetto, è una scelta consapevole e a mio parere giustissima operata dagli autori dello show per farci tornare nel mondo di The Boys, riallacciandoci a ciò che è successo nella prima stagione e introducendoci tutte le conseguenze di ciò che è accaduto nell'ultimo episodio della prima stagione e di roba ne è successa davvero tanta, sì perché è molto più introspettiva questa prima parte della seconda stagione, questo mini arco costituito dai tre episodi binge watchabili adesso su Amazon Prime Video è molto più drammatico, ci offre la possibilità di scavare più nel profondo, nelle due compagnie sostanzialmente che ci vengono presentate dallo show, ovvero i sette, i super tizi, tutte le problematiche sorte dopo che il compound V è arrivato appunto alla stampa, la consapevolezza dei super tizi di essere stati creati in laboratorio e non che il loro è un dono venuto dall'alto. Ma l'altra band, l'altra anzi boy band di cui riusciamo a scoprire di più è ovviamente quella dei ragazzi, dei The Boys che danno il titolo allo show, Billy Butcher, Le Petit Huey, Frenci, Latte Materno, Modern Milk, Chimico, insomma, tutte le allegre canaglie che abbiamo imparato ad amare nella prima stagione che all'inizio della seconda stagione tanto allegre non sono più. E no, perché sono in fuga, sono ricercati, hanno tutti alle calcagna, poi con la scoperta del fratello di Chimico che è uno di, insomma, di quei super terroristi, anzi, quei super villain come ci tiene che vengano chiamati appunto Homelander e chi sono io per andare contro la volontà di Homelander ci mancherebbe altro. Insomma, un sacco di cose interessanti, un sacco di cose fighe e veramente era fondamentale che le raccontassero tutte assieme in un'unica giornata, in tre episodi prima di cominciare con la programmazione settimanale perché appunto questa differenza rispetto a ciò a cui ci ha abituato la prima stagione di The Boys secondo me avrebbe potuto magari far allontanare dallo show alcuni degli spettatori che cercavano un prodotto col ritmo sostenuto proprio come aveva lo show nella sua prima stagione nei suoi primi otto episodi. Trovo che questa programmazione tre episodi assieme e una settimana dimostri non solo una grandissima consapevolezza del prodotto che Amazon Prime Video appunto pubblica sulla sua piattaforma streaming ma anche una grandissima consapevolezza della campagna di marketing. Allora entrando un po' più nei particolari avete già capito che queste tre puntate della seconda stagione di The Boys mi sono piaciute tantissimo ma vogliamo parlare assieme come vi dicevo con spoiler di cosa è successo. Homelander caro papino che continua tuttavia ad avere la sua strana ossessione per il latte materno diciamo che è proprio una di quelle cose che avevo tanta voglia di vedere perché penso che Homelander beh patriota perché guarda la versione doppiata dello show effettivamente è uno dei personaggi migliori creati negli ultimi anni non solo nel campo televisivo beh almeno per quel che mi riguarda vedere un personaggio così onnipotente che si crede ed è un dio ma è contemporaneamente estremamente umano in tutte le sue turbe in tutti i suoi problemi psicologici in tutti i traumi che ha sicuramente vissuto nella sua vita è meraviglioso vedere questo contrasto vivente camminare volare sparare raggi laser dagli occhi vogliamo sprecare una parola per abisso di Deep che adesso ha abbracciato sto culto così alternativo si scusa con le donne che ha sempre umiliato vabbè meglio tardi che mai il problema è che secondo me non lo sta facendo per le giuste motivazioni ma vabbè e fatto sta che gli animalisti si devono preparare e io mi sono dovuta preparare che quando c'è lui in scena una creatura dell'oceano del mare insomma un animale marino dovrà fare una brutta fine la prima stagione è stato quel delfino e stavolta è stata una balena non sapevo se piangere inorridirmi oppure ridere a volte non so come reagire alle cose che vedo in The Boys tuttavia poi le amo quindi alla fine è quello l'importante poi ovviamente abbiamo Starlight che cerca di fare giustizia a suo modo infatti è stata proprio lei a farsi dare da quel suo ex amico un campione di compound da dare alla stampa vorrei dedicare qualche secondo al suo ex amico insomma quello che viene utilizzato come cavia umana all'interno dei laboratori della VOT e non so se la pensate come me ma vorrei tanto vedere nei prossimi episodi ancora un po' di questo tizio cavia umana che è a rotonda nel tempo libero facendosi non so tagliare via gli arti e non solo perché mi è piaciuto molto il suo personaggio mi è piaciuto l'attore mi è piaciuto come è stato caratterizzato insomma vorrei vederne di più ciao sono Stormfront vogliamo parlare della nuova tipa della nuova super tipa che è entrata nei set Stormfront una nuova psicopatica di zecca e degna di ogni lode di cui parleremo dopo perché sarà molto interessante cercare di capire nei futuri episodi come il rapporto tra Larry e Homelander si evolverà ma parliamo dei ragazzi Billy Butcher sta cercando di fare qualunque cosa e pronto a scendere a qualunque patto e compromesso pur di localizzare nuovamente la moglie che ha visto la fine della prima stagione eppure disposto a sacrificare il super villain il super terrorista il fratello di chimico che tuttavia poi viene ucciso brutalmente da Stormfront proprio davanti agli occhi della nostra chimico che anche lei troverà una motivazione proprio come tutti gli altri suoi colleghi dei The Boys per far fuori i super tizi insomma motivazioni importanti per un personaggio molto importante che non vedo l'ora riesca finalmente a spiccicare qualche parola e a superare il proprio trauma sempre cuoricioso e Frenchy che probabilmente è il mio personaggio preferito nella schiera dei Boys mentre il mio preferito nella schiera dei super tizi è Homelander ragazzi non ci posso fare niente ma dicevo Frenchy proprio un cur scusate la pronuncia francese è pessima latte materno che è un po' la bussola morale e petite che è bellissimo come venga in questi primi tre episodi a parte buttato scosato picchiato insomma gliene succedono veramente di tutti i colori cosa che effettivamente può mettere la sua psiche davvero in pericolo ed è interessante come sia il limite come rappresenti il limite che Billy Butcher non dovrà mai superare una sorta di grillo parlante inconsapevole che permette a Billy Butcher di non andare mai oltre anche se effettivamente investire una balena mi sembra abbastanza oltre tuttavia credo che ne vedremo ancora peggio nelle prossime cinque puntate di The Boys e quindi che ne dite di parlare di cosa succederà speriamo forse nei prossimi episodi della seconda stagione di The Boys benissimo prima di tutto vorrei parlare del rapporto tra Homelander e Stormfront che insomma ci regalerà delle belle perle perché lei è strana in realtà a volte i personaggi che pensano di essere così schietti o si presentano così schietti senza peli sulla lingua sono i più grandi bugiardi di tutti e infatti lei ha una strategia ben precisa e ha cominciato a metterla in atto non appena entrata nei sette secondo me vuole fare le scarpe a Homelander sì perché il fatto che ha ucciso il fratello di Chimico il super villain il super come lo volete chiamare quando Homelander aveva detto chiaro e tondo che voleva essere lui a farlo fuori questo fa capire che alla fin fine a lei degli ordini di Homelander non gliene frega una mazza quindi vuol dire che non lo teme sarà bellissimo vedere come un personaggio sclerato come Homelander riuscirà a gestire e trovare un equilibrio nel suo disequilibrio folle tra l'essere fare il padre e restare il supereroe principale all'interno dei sette e poi sempre a proposito di Homelander come reagirà al fatto che Starlight si sia rifiutata di uccidere Yui insomma prevedo cose molto interessanti perché la giovane Starlight per quanto sia un personaggio estremamente positivo temo dovrà scendere ancora più a compromessi se vorrà mantenere la sua posizione all'interno dei sette ma soprattutto la sua vita perché non si presentano tempi d'oro per i supertizi sicuramente non per la Vot vedremo anche il personaggio interpretato da Giancarlo Esposito che cosa farà perché allora è un attore che a me piace tantissimo ed è oltre che in The Boys anche nella mia serie forse preferita in assoluto ovvero Better Call Saul quindi è un personaggio su cui faccio tantissimo affidamento e ci piacerà vedere quello che farà vabbè magari non ci piacerà eticamente o moralmente ma ce lo gusteremo molto ed effettivamente Homelander in questo momento non ha l'appoggio da parte di nessuno perché anche Queen Maeve che sembra l'unica dalla sua parte o meglio crede essere l'unica dalla sua parte in realtà se potesse lo farebbe fuori proprio con uno schiocco di dita poi certo i The Boys i ragazzi in questione continuano ad essere braccati da chiunque interessante vedere che finalmente Billy Butcher sembra essersi dato una calmata e che dopo l'incidente della balena torna a vedere le petit Yui Yui insomma come un membro importante all'interno del gruppo e non come un rivale alla leadership perché effettivamente diciamocelo Butcher ok che non guarda in faccia a nessuno però gli stava un po' qui il fatto che i compagni ad un certo punto preferissero Yui a lui stesso quindi vedremo il gruppo dei ragazzi unito come non mai con chimico con una nuova non solo la vendetta verso coloro che le hanno iniettato nel midollo poverina il Campan V ma anche nei confronti di Stormfront e dei sette appunto vorrà vendicarsi per l'assassinio di suo fratello e poi certo come andranno ulteriormente a svilupparsi e a complicarsi le varie questioni dei super villain ovvero di questi cattivi di questi terroristi che arriveranno su suolo americano e poi come reagirà all'opinione pubblica perché l'opinione pubblica i social le campagne strategiche di marketing sono fondamentali nella gestione dei super tizi della vote succederà magari qualcosa all'anteprima di Citizen Starlight il primo film stand alone appunto dedicato alla giovane supereroina oppure no saranno sempre amati allo stesso modo dalla gente che non li vedrà più come delle creature scelte come dei fortunati bensì semplicemente come delle cavie da laboratorio sarà molto interessante vedere anche come verrà approfondita la tematica dell'essere speciale cosa ti rende speciale cosa ti rende verso dagli altri insomma sono super fiduciosa riguardo ai nuovi episodi della seconda stagione di The Boys e sono sicura che mi piaceranno tanto quanto mi sono piaciuti questi primi tre e voi che cosa ne pensate mi raccomando segnatevelo sul calendario giovedì 8 ottobre ci vediamo alle 21 qua su Cosmopolinerd per prepararci al gran finale della seconda stagione di The Boys e poi ci vediamo tutte le settimane per delle analisi con spoiler di ogni episodio nuovo se questo video vi è piaciuto come è piaciuto alla faccia di una che ha appena finito le vacanze e sembra più stanca rispetto a quando le ha iniziate allora dovete fare sempre le solite cose ovvero mettere mi piace lasciare un commento iscrivervi al canale youtube di Cosmopolinerd attivando anche la campanella delle notifiche su in alto che è sempre una cosa importantissima altrimenti in fondo al mar in fondo al mar di Cosmopolinerd di Cosmopolinerd di Cosmopolinerd